buongiorno dal centro guida siena sono federica olla e oggi vi porto a san casciano dei bagni si vi ho portato un po lontano in effetti siamo in fondo alla toscana siamo in fondo alla provincia di siena e siamo in una terra di confine attualmente possiamo dire che san casciano si trova in un punto di incontro fra toscana lazio e umbria che se la traduciamo in linguaggio un po più arcaico dobbiamo cominciare a parlare del patrimonio di san pietro della repubblica senese e dell'influenza orvietana ma se andiamo ancora più indietro nel tempo dobbiamo parlare del territorio di chiusi nel territorio di vulci di zone di influenza etrusca perché san casciano dei bagni si trova in una zona particolarmente densamente popolata in periodo etrusco in effetti gli etruschi non sceglievano mai dei luoghi non fertili o particolarmente banali e siamo equidistanti dal lago di bolzena e dal lago trasimeno quindi è una zona particolarmente felice ma la sua grande importanza è da attribuire alle acque termali acque termali che rendono san casciano dei bagni il centro termale più importante d'italia il secondo in europa abbiamo una portata d'acqua di otto milioni e mezzo di litri di acqua termale al giorno ma sia la quantità delle acque sia la loro eccelsa qualità e capacità curativa resero san casciano dei bagni un luogo di riferimento importantissimo per il termalismo di epoca romana ma non solo la precoce penetrazione cristiana infatti testimoniata dalla chiesa di santa maria ad balnea oggi completamente ricostruita però su un impianto alto medievale situata in quello che viene definito il polo sud del centro termale di san casciano ovvero in quella zona che anche i medici scelsero secoli dopo per costruire una grande villa e sfruttare quindi le proprietà benefiche del luogo nel 1602 ferdinando primo dette avvio ai lavori spostando di fatto il fulcro dell'attività termale dal bagno grande alla zona più meridionale del borgo questa sorta di abbandono fece sì che quel poco che rimaneva delle antiche vestigia romane ancora presenti intorno al bagno grande venisse trascurato fino a farlo praticamente scomparire sotto ad un orto e qui comincia la splendida storia che l'archeologia moderna può narrare a partire dal 2019 il bagno grande è stato studiato esplorato scavato dissepolto riportando alla luce un tesoro straordinario che ci racconta di un vero e proprio santuario l'enorme deposito votivo che sta ancora emergendo ci parla di una profonda devozione verso una natura benevola e generosa e una ristretta ma significativa parte dei reperti è già visibile nel piccolo allestimento realizzato all'ingresso del palazzo comunale ma questa storia è appena cominciata e nonostante la distanza vi possiamo garantire che come ci è stato più volte ripetuto dagli archeologi in questi giorni la visita vale il viaggio